Sono saliti in due su un treno verso Napoli dalla locale stazione di Battipaglia. Quando il controllore, nell'ambito delle sue funzioni di verifica dei biglietti, gli ha chiesto il ticket, lo hanno minacciato e hanno tentato di aggredirlo. A provocare l'episodio sarebbero due stranieri che sono scesi e sono stati bloccati dagli agenti della Polfer di Battipaglia, che li hanno identificati e denunciati a piede libero per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio. Proseguono intanto i controlli, si convogli per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri.